L'edificio 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 Carlos, quel mostro è ancora vivo Mi sta inseguendo Cosa? Presto, torna alla stazione No, prima devo ripristinare il sistema L'edificio 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 Ok, rieccoci qui L'edificio Altuo L'edificio L'edificio Mag L'edificio 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 Caldera sono nella sala di controllo adesso bene devi impostare il percorso ok dammi un minuto qual è la destinazione il treno è fermo a redstone street dobbiamo raggiungere fox park station riesce a programmarlo e sono una superstar considera iniziamo 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 percorso non valido si prega di riprovare iniziamo 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Inserire un percorso. Grazie a tutti. 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 Come ha detto, da Redstone Street a Fox Park. Grazie a tutti. Percorso valido. Carlos, sono io. Grazie a tutti. 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 una mappa dell'area. a tutti. a tutti. Cos'è stato? la porta è chiusa. ha bisogno di corrente per evparirsi. Oh, merda. Mi toccherà bruciare questi vestiti. 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 Ah! 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 Grazie a tutti.